Io non ci parlo più con te, capito? Ti prego, non farlo, Dave! Andiamo, ragazzi. Alvin se lo merita. Non posso deluderlo. D'altronde, che potremo mai fare? Alvin! Io davvero non posso farlo! Oh, il piccolo Dave ha paura! Devo chiamare l'ambulagna? Alvin, non è questo che mi serve! Oh, nessun problema, Dave! So esattamente cosa ti serve! È spettissimo! Geronimo! Oh, no! Oh, phew! Oh! Oh, che impresa! Allora, vogliamo fare un pranzo rilassante e magari un pisolino? Pranzo? Oh, Dave! Sono solo le 8 e 30! Andiamo! Ci aspetta l'isola dei Barracuda, dove potremo nuotare con gli squali! Alvin, è una cosa troppo pericolosa! Beh, non preoccuparti, se hai paura, la sola cosa da fare è premere il pulsante dei bimbi piccoli e dei veri macho men del mare ti tireranno fuori e ti daranno un pannolino pulito! Oh, no! Io la musica ce l'ho nella mente e sono il più vero di tutti i chip! Cheatmunk lo sai, fai come me e non farti mai copiare, credimi che la festa è qui! La squadra è sempre quella vera, è la polveriera che scoppia nello show! Un'altra stagione, la stessa canzone, non vogliamo altro che te! Vai, vai! Tutti dicono, cheatmunk è un trio piuttosto bank! Tutti dicono, cheatmunk è un trio piuttosto bank! Io vivo a modo mio e deciderò, io ci penserò, io! Io vivo a modo mio e deciderò, io! E so che mi piace, fai per l'acqua via, fai per l'acqua via, fai per l'acqua via! Mi piace, fai per l'acqua via e deciderò, io ci penserò, io! Grazie! Grazie! Grazie!